Sono diversi i cambiamenti che si attendono all'interno del sistema sanitario regionale. Il presidente della regione, Roberti, ha chiesto un cambio di passo all'interno dell'Asdrem e per fare un punto generale sul tema sanità, il prossimo 1 agosto, Roberti si confronterà col ministro della Salute, Orazio Schillaci, e con quello delle economie e finanze, Giancarlo Giorgetti. Manca all'appello la nomina del nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria, che Roberti dovrà scegliere tra un elenco già pronto di 13 donei, ma soprattutto manca all'appello dopo le dimissioni di Donato Toma il commissario alla sanità. Stiamo lavorando, dice il subcommissario Bonamico, ma di fatto siamo bloccati, pronti diversi decreti, ma senza commissario siamo fermi. Purtroppo non possiamo fare atti che presuppongono la firma del commissario, quindi siamo abbastanza bloccati, però stiamo andando avanti con le attività, nel senso che stiamo preparando tutti i decreti che dobbiamo fare e appena ci sarà nominato il nuovo commissario li adotteremo. Per il momento stiamo anche mandando a Roma le preventive autorizzazioni, quindi la nostra attività continua normalmente. Purtroppo non possiamo essere esecutivi alla fine. Sui tempi di nomina del successore di Donato Toma, che potrebbe essere anche lo stesso Bonamico, il subcommissario non ha né idea né notizie. Non ne ho idea, non dipende da noi, dipende dal governo, quindi non ho proprio idea. Intanto ieri a Roma si è riunito il tavolo tecnico per il rientro dal debito sanitario, questa volta senza Angela Adduce, l'ispettrice del MEF che per anni ha coordinato la struttura ed è passata adesso ad altro incarico. A presiedere il tavolo è stata un'altra dirigente del MEF, Federica Di Pilla, di origini molisane, ribadite dalla struttura interministeriale le prescrizioni draconiane da tempo sul tavolo. Proprio per andare a fondo sulle varie questioni, il subcommissario Bonamico si trasferirà nei prossimi giorni nella sede dell'azienda sanitaria per acquisire tutti i dossier necessari alla prossima riunione col tavolo tecnico prevista per settembre. Intanto dopo il 1 agosto e l'incontro Roberti Schillaci-Giorgetti si chiariranno una serie di aspetti, compreso un eventuale superamento del commissariamento o, in alternativa, una conferma con un cambio al vertice dove potrebbe andare anche lo stesso Roberti. Ultimo, ma non meno importante, a mancare all'appello rispetto alle altre regioni d'Italia, è un piano d'emergenza dell'ASREM per affrontare l'ondata di caldo.